Guardando la sua pagina Instagram, Dr. Bove, noto un format che piace molto alle sue follower. Ve ne vuole parlare? Sì, parola del Dr. Bove. In realtà il titolo nasce da un hashtag che oramai utilizzo da anni, quindi è diventato emblematico. L'esigenza invece di questo nuovo format è nata in maniera un po' particolare, perché è un post-Covid, diciamo è una creatura del Covid. Stando un po' a casa, come in ogni epoca di crisi, devi reinventarti e quindi l'idea era far compagnia un pochettino alle mie pazienti con delle dirette Instagram. Quindi tutto è nato lì, sia da solo, sia invitando i miei amici VIP, in modo da dare la possibilità anche alle pazienti di conoscere bene la medicina e la chirurgia estetica in maniera un po' più divertente. Per cui il format nasce proprio per questo motivo, perché l'idea è proporre ogni trattamento di medicina e di chirurgia, ma con i pro e con i contro, e soprattutto il mio modo di vedere la medicina e la chirurgia estetica alla portata di tutti. Per quello in realtà è diventato virale sui social, perché è divertente, è smart, un po' come tutto nella mia vita, e dà informazioni giuste.